Allora, eccoci con Petrucci, uno dei migliori in campo sicuramente per la 9 a 7. Senti, un commento a caldo su questa prima vittoria di Coppa. È importante, più che la vittoria per la Coppa, è importante perché ci risolleviamo dopo una sconfitta pesante domenica. È stato importante ripartire subito e quindi per la testa domenica ricominciare un nuovo campionato. Partita concentrata, su un campo non semplicissimo, di terra. Come vi sentite nonostante questa sconfitta di domenica? No, la sconfitta domenica mentalmente è un po' stata tosta, ma il gruppo c'è, siamo tutti grandi giocatori, siamo grandi uomini e quindi siamo pronti a ricominciare e ripartire alla grande per provarci fino alla fine. Guarda, hai parlato di gruppo, siete un gran gruppo, con tutti che danno un contributo, anche te, quando vieni chiamato in casa anche oggi hai trovato un super gol. Tu personalmente come ti senti? Io sto bene, cerco di dare tutto per la squadra. A fine 36 anni si pesano, una volta si giocava sempre, adesso un po' di meno, ma va bene così, chi gioca fa bene e quindi, come ho detto, siamo un gruppo e tutti dobbiamo fare bene. Guarda, ci arrivi anche con l'esperienza, oltre che con il fisico, questo è ancora bene, te lo dico io. Senti, ancora bravissimo e bocca al lupo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.